Ciao ragazzi, sono Happy! Bentornati su Mega Wow! Amici, oggi sono in vena di challenge e indovinate che ho deciso di sfidare a 7 anni! È una fan delle Miracle e ha i capelli più lunghi di tutti quelli che conosco! Ma certo, è Sofì! Oggi la challenge che dovrà superare è una delle vostre preferite. Lo so perché me lo scrivete sempre e allora aprite bene le orecchie. Sofì dovrà stare 24 ore a casa da sola! Yeah! Ah, a proposito, quando sono a casa da solo, secondo voi, cosa mi piace fare? Mangiare caramelle, fare i compiti o mettere a posto i giochi? Ve lo dirò alla fine del video! Eccola, eccola! Si sta svegliando! Ma perché c'è la telecamera? Ma non è che oggi è il giorno che devo fare 24 ore da sola? Mamma! 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 Yuppì! Sì, oggi è il giorno che devo fare le 24 ore da sola! Venite, venite! Vi porto subito giù! Ok, aspettate che metto l'asta così mi vedete tutta. Vite con me, devo fare la collezione! Non, non, non! Mamma! Ah, giusto, non c'è. Aspetta. Mi posso fare una squeca con un monte di cioccolata? Esagera, esagera, Sofì! Stalina, non mi mangiare la collezione! Innanzitutto vi faccio vedere la mia bellissima trazza. E adesso lo metto nei microonde, però a voi vi devo spostare perché siete proprio appoggiati al microonde. Cioè lo vi metto qui. Non cadete, eh, mi raccomando! Sei pronto, Nesquiquetto? Mi raccomando, hashtag Nesquiquetto! Venite con me! Sarà un'impresa a tenere il bastone e poi anche il lavoro! Ah, aspetta, aspetta! Mi manca una cosa! Vabbè, lo bevo così! Mmm, buono! Ok, perfetto, mi sono vestita, già me l'ho buttato lì e adesso mi pettino! Eh, aspetta! Non mi sa pettinare adesso, da! Ah, ecco! Ho trovato la salvezza, va bene! Perfetto, anche pettinata! Adesso andiamo! Aspetta! Mi sono pettinata! Cioè, sì, mi sono pettinata! Mi sono vestita! E adesso che faccio? Vabbè, mi guardo un po' di tv! Siamo le Miracle Girls! Andiamo a prendere qualcosa da colorare! Guardate quante cose! Ci sono tantissimi libri qui! Allora, datemi un parere! Vi piacerebbe Frozen? Oppure Zootropolis? O un'altra cosa di Disney? Fatemelo sapere! Però per adesso io prendo... Questo qua! Ops! Aspettate! Povero lozzettino! Oh, che bello! Andiamo a colorarlo! Mi sa dove è andata a finire, mamma! Boh, vabbè! Sarà andata a fare la spesa! Lo so dove mamma tiene le caramelle! Visto che mamma non c'è! Ho le vostre sceglie! Questo! Rimineciamolo a posto! Perché se qualcuno mi spia... Potrebbe scoprire dove mamma mette le caramelle E mangiarmi le rotte! Sto avvergendo il coso è esito Oddio Ho rischiato di farvi cadere E dopo? Io me lo mangio Che ore saranno? Vabbè, io ho fame, io lo mangio Spinsa Ok, adesso devo rampicarmi La su per prendere la ciotola per mangiare La sedia si sposterà da qui a lì Va via! Ok Paura di far cadere tutto Allora, ci vediamo dopo quando ho preso la ciotola Presa! Adesso farò una magia impossibilissima Andiamo a mettere patatine Dentro la ciotola E andare a vedere il latimu Mmm, che pranzo disgustoso Sarebbe troppo anche per me Buon appetito A me Guarda c'è Eppi Andiamo a fare un gioco Tutti insieme con i pupazzi Mamma, sarà abbia tantissimo Quando scoprirà che io Ho preso i pupazzi E li ho buttati di sotto Voi vedete lassù Perciò va bene Io vado su E vi lancio i pupazzi da sotto Arrivo Nino Billy Ma che razza di gioco è quello Oddio, e lui come faccio? Ecco il Ok Adesso scendo E li portiamo di là Ok Guardate quindi Adesso mi metto qui E sprofidi E sprofidi E sprofidi Sono affondata nei pupazzi Uh, certo sono morbidi Però fanno caldo Uh Lasciamoli stare, va? Oh, ma ce ne fate anche voi Vabbè, non vi ho invitato La festa Sarà per la prossima volta Avesse avuto la puma Avrei potuto giocare con lei Adesso cosa faccio da sola? Forse potrei andare giù a giocare Guardate quante cose Sono indecisa Mi servirebbe mamma per scegliere Mi servirebbe proprio mamma Ho deciso, posso giocare con le dolly libe Perfetto Smiato Ah, ha funzionato Ha funzionato Wow Prendi questo, Demo Prendi quest'altro Goi, goi, goi Abbracciami Bavi, bavi, bavi L'ho via tu te Goi, goi, goi Non dire no Non, 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 non L'ho via tu te Wow Adesso divento io una miracle Uno Due Adesso è come quel caso di Giulia Ma, va bene Te lo do io Tieni Che te l'ho dato? Oh, Giulia ha fame Perciò può mangiare Ciao Eh, va bene Va bene, va bene Va bene Ma, però non mi riesce a ganziarlo E mamma non c'è Griglia Ok, ci sono uscite E' stato più facile D'al solito Ho di nuovo fame Ma non ho più voglia Di mangiare schifezze Ci vorrebbe una cenetta Che mi fa mamma Vediamo se è tornata Ma c'è Puma Quindi Ciao Pumino Quindi vuol dire Che è anche tornata Mamma 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 Sofì Cos'hai combinato In camera Eeeh Ciao Emi Spero che questo video Ti abbia stato aiuto A andare a fare Tutti A che con mamma Ciao Oh Mi sa che Sofia Ha esagerato Deve aver combinato Qualche pasticcio Della in cucina Ragazzi Complimenti In tanti avete indovinato La cosa che mi piace Di più fare Quando sono in casa Da solo E' mangiare caramelle Eh Senza esagerare Ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Ciao E' mangiare caramelle E' mangiare caramelle E' mangiare caramelle E' mangiare caramelle E' mangiare caramelle